Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io mi chiamo Samuele e oggi siamo tornati in un nuovo video su Amazon. In particolare oggi vediamo qualche trucchetto su come risparmiare un pochino su Amazon. Ormai penso che al giorno d'oggi compriamo quasi tutti, quasi tutto su Amazon, anche se io ho un po' allentato. Però insomma, penso che questo video possa tornare utile a molte persone. Non vi aspettate il classico guru, vi faccio spendere zero, non pagate niente, sconti, gruppi per le offerte, così. Il semplice video con qualche trucchetto piccolo ma funzionante su come risparmiare un pochino su Amazon. Il primo consiglio che vi do, scusate se guardo lì ma ho fatto una lista sul computer per essere un pochino più organizzato, sono i codici sconto e le promozioni. Ci sono molti siti dove possiamo trovare questi codici sconto del 5, del 10%, su alcune categorie, solo su alcuni acquisti, che vengono aggiornati, diciamo, quotidianamente. Quindi vi consiglio di aggiornarli, questi siti, di controllarli. Uno in particolare è ANSA, che è il primo che esce. Basta cercare su Google codici sconto per Amazon e appunto leggere le condizioni e qualora il vostro acquisto rientrasse in queste condizioni potete tranquillamente applicarlo al carrello e avrete un piccolo sconticino. Il secondo consiglio che vi do, che secondo me è il più efficace, che tutti sottovalutano, è Amazon Prime, che adesso è arrivato a un costo di 49,90€ all'anno, quindi 50€ all'anno, che però non sottovalutatelo perché sì sono 50€ all'anno, ma intanto avete la spedizione gratuita sulla maggior parte degli articoli. Quindi spedizione gratuita e basta che fate 10 acquisti all'anno, avete già sforato i 50€ a volte. Comunque poi avete incluso le offerte lampo, che è un altro punto che fa parte di questa lista che ho stipulato, che sono delle offerte che durano 15 minuti, quindi dovete essere molto veloci, diciamo, ad acquistarlo, però risparmiate tanti tanti soldini. E ovviamente dovete trovare anche l'articolo giusto su queste offerte lampo, non è che dovete comprare cose a caso solamente perché stanno in offerta, però molte volte, che ne so, su una cover, su una pellicola per il telefono, ce ne stanno talmente tante che alla fine io ogni tanto ho acquistato su queste offerte lampo e devo dire che ho risparmiato qualche euro. Un altro vantaggio di Amazon Prime, che non so se tutti lo sanno, ma molti lo sottovalutano anche questo, è che con Prime sembra che quasi mi pagano per dire queste cose. Non è che avete solamente le consegne gratuite e veloci illimitate, ma avete Prime Video, quindi film, serie tv, che fa una sorta di Netflix. Netflix a mio parere è imbattibile, però molte cose stanno su Prime e non su Netflix, e o viceversa. Amazon Music, sì, non include tutte le canzoni perché altrimenti dovete fare l'abbonamento a 10 euro al mese, ma comunque avete molti, molti brani che potete ascoltare. Avete delle offerte su Twitch, potete avere, mi sembra, un mese di abbonamento a un canale che preferite gratuitamente, e il reading con l'ebook. E soprattutto, che io utilizzo, che è molto, molto, non importante, ma a mio parere molto, molto utile, è l'Amazon Photos, foto, chiamatelo come volete. Comunque uno spazio di archivazione illimitato, del quale potete usufruire e accedervi da ogni dispositivo. È una sorta di cloud. E alla fine, sì, voi spendete 50 euro all'anno, però magari, esempio io all'iPhone, non ho l'abbonamento a Cloud, di 1 euro al mese, oppure 5. Non ho Apple Music, quindi quei 10 euro al mese. Magari, sì, spendiamo 50 euro tutti insieme su Amazon, però andiamo poi a risparmiare su altre cose, come sull'esperizione, eccetera, eccetera, eccetera. Un altro punto che voglio toccare, questo posso garantire, almeno per il mio acquisto, è Amazon Warehouse, e Amazon, non mi viene il nome in inglese, quello che fanno in pratica prodotti rinnovati, che li ricondizionano, diciamo. Il Warehouse, se pronuncia così, boh, sono prodotti usati, garantiti, mentre i prodotti ricondizionati, lo dice la parola stessa, sono prodotti che sono stati ricondizionati da Amazon, e sono sempre garantiti. Ovviamente non sono prodotti nuovi, perché non sono prodotti nuovi che voi aprite, come se stessi comprando un telefono nuovo, alla Apple o alla Samsung, insomma. Ma sono prodotti che Amazon garantisce, sono stati controllati, e potete vedere anche lo stato di usura del dispositivo. Quando lo acquistate, Amazon vi dirà, non so, usato come nuovo, buone condizioni, qualche graffio, insomma, vi dirà le condizioni dell'oggetto. Ma la cosa che comunque mi tranquillizza, e vi dovrebbe tranquillizzare, è che sono prodotti certificati da Amazon. Cioè, se avete qualche problema, chiamate, e dopo due giorni ci avete il prodotto a casa, insomma, nuovo. Il prossimo punto è molto molto carino, si tratta di monitorare i prezzi. Come si fa? Esistono degli strumenti, come Kipa, che state vedendo qui sopra, che vi indica l'andamento di prezzo di un determinato prodotto su Amazon. Potete o aggiungerlo come estensione, o semplicemente andando su kipa.com e cercare il prodotto che volete acquistare. Basterà appunto vedere dal grafico molto semplicemente l'andamento dei prezzi, e vedere se oggi lo state acquistando il prezzo magari è più alto o più basso rispetto a ieri, all'altro ieri. Così potete decidere se magari aspettare che il prezzo, diciamo, scenda, oppure magari vedere che il prezzo è basso e lo acquistate subito prima che risalga. Ora arriviamo alla lista dei risideri e dei carrelli salvati. Ora, questo non ha nessuna prova scientifica, ma capita a tutti, quindi non so dirvi con quale frequenza. Ma quando voi aggiungete un prodotto al carrello e non lo acquistate, dopo un po' di tempo, una settimana, dieci giorni, Amazon vi invierà, diciamo, degli sconti che vi inciteranno a procedere all'acquisto. Ovviamente se avete urgenza di una cosa è un pochino inutile, però se magari dovete comprare un qualcosa, che è un po' non superficiale, però un po' così, lo mettete nel carrello, aspettate quella settimana, quei cinque giorni, quei dieci giorni, e vedete che il prezzo potrebbe tendere a calare. L'ultimo punto, e poi arriviamo alle conclusioni che voglio andare a toccare, è il piano subscribe e save. Questa è una cosa molto, diciamo, carina, ma secondo me è ancora presto affinché, diciamo, prenda piede in Italia. Si tratta di alcuni piani di acquisto costanti, mensili o settimanali di un determinato prodotto. Dobbiamo comprare un dentifricio, comunque qualcosa che si consuma periodicamente, anziché comprarlo una volta, possiamo sottoscrivere un piano di acquisto settimanale, bisettimanale, mensile, in base alle nostre esigenze, e risparmere sul prodotto. Detto questo, il video è terminato, io vi ringrazio per la visione. Se avete qualche trucchetto, qualche consiglio o qualche domanda, mi raccomando, qui sotto nei commenti è tutto aperto, lasciatemelo, così commentiamo insieme, e magari nel prossimo video inserisco anche le vostre curiosità. Vi invito anche a lasciare un mi piace e condividere il video con i vostri amici e familiari. Grazie per la visione e a presto regalo!